articoli 175 e 176 del codice stradale questi due articoli danno alcune definizioni e prescrizioni e norme di comportamento che sono specifiche per la circolazione su due tipi di strade non su tutte solo su autostrade e strade extraurbane principali quindi quindi una violazione può essere configurata solo in circolazione su questi due tipi di strade vi invito ad andare a leggere dal codice stradale l'articolo 2 dove trovate la definizione di questi tipi di strade per sapere appunto di cosa stiamo parlando vediamo intanto che su autostrade e strade extraurbane principali la circolazione è vietata per determinati utenti della strada per esempio pedoni e animali non possono percorrerla se non in condizioni di estrema necessità pensiamo a un veicolo in panne e il pedone che cammina per raggiungere la colonina di sos se dovesse averne bisogno e non possono percorrerla velocipedi quindi biciclette monopattini quant'altro e neanche ciclomotori ma i motocicli possono percorrerla tranne quelli che sono inferiori a 150 cc oppure 11 kilowatt di quelli elettrici non possono circolarvi moto carrozzette che sono inferiori a 250 cc e non possono percorrerla poi quei veicoli che hanno delle caratteristiche tecniche che non li rendono idonei per esempio veicoli non muniti di pneumatici oppure macchine agricole macchine operatrici tranne quelle macchine che servono per i lavori appunto stradali ma hanno delle autorizzazioni seguono determinate norme per potervi circolare e anche veicoli che non hanno delle condizioni che sono idonee alla circolazione oppure che non sono stati sottoposti a revisione mi fermo un attimo su questo veicoli in condizioni non idonee intendiamo tutti i tipi di condizioni per esempio circolando di notte mentre un veicolo che non ha i fari o alcuni fari funzionanti per esempio mentre su altre strade strade urbane strade extraurbane secondarie il veicolo magari verrebbe fermato verrebbe sanzionato per il faro non funzionante però poi potrebbe riprendere la circolazione sulle autostrade sulle extraurbane principali il veicolo oltre a essere fermato dalla polizia stradale e sanzionato verrà anche obbligato ad uscire alla prima uscita utile e magari anche scortato dalla stessa polizia perché costituisce un pericolo su una strada che ha un limite di velocità magari così alto e quindi un veicolo che è scarsamente visibile per avere appunto queste condizioni non può circolare sulla autostrada o sull'extraurbana principale verrà obbligato ad uscire ci sono delle eccezioni come vi dicevo veicoli che hanno delle autorizzazioni o per esempio le gru sull'extraurbane solo sull'extraurbane principali comunque o naturalmente quando si danno delle norme ci sono anche molte eccezioni che possono essere applicate ma servono delle autorizzazioni specifiche in merito ora i veicoli che trasportano merci o che comunque trasportano un proprio carico hanno degli obblighi da rispettare su autostrade e dextraurbane principali il carico non deve essere disordinato quindi deve essere ben posizionato sul veicolo ben fissato e assicurato in modo da non poter cadere inoltre se è un materiale che può disperdersi pensiamo a sabbia terra o materiali di piccole dimensioni magari oppure appunto liquidi che possono fuoriuscire anche poco alla volta il veicolo deve essere attenuto a stagna su queste strade non possono circolare veicoli che superano quei limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del cds e vi rimando a leggere questi due articoli tranne per i trasporti eccezionali che però hanno delle prescrizioni da seguire che sono previste appunto dall'articolo 10 iniziamo ora a parlare di determinati divieti che sono previsti di quindi di norme di comportamento su carreggiate su rampe su svincoli e anche all'interno delle aree di sosta attenzione che uno può pensare che siano esterne all'autostrada ma in realtà all'ex urbana principale ma in realtà ne fanno integralmente parte sono delle pertinenze delle stesse strade è vietato trainare veicoli che non siano rimorchi quindi il il traino di un veicolo in avaria è possibile solo per determinati mezzi di soccorso non è possibile trainare da sé un veicolo non è possibile richiedere o concedere passaggi lo vediamo all'ingresso dell'autostrada la scritta no autostop di solito lo possiamo leggere quindi è una cosa che è vietata è vietato anche svolgere attività commerciali o di propaganda questo chiaramente nelle aree di sosta a meno che esse non siano autorizzate quindi quelle persone che nelle aree di sosta vanno in giro magari a cercare di vendere determinate cose e stanno commettendo una violazione ai sensi di questi articoli naturalmente devono avere ce lo potrebbero fare avendo un'autorizzazione dell'ente proprietario della strada sono comunque vietate nelle altre pertinenze autostradali quindi altre aree di sosta parcheggio altro è evitato anche campeggiare quindi sia nelle aree di sosta che tanto più nelle sosta nella sosta di emergenza o altro è evitato campeggiare quindi aprire il camper o il veicolo comunque mettere a terra un tavolino e mangiare eccetera è vietato è concesso solo in aree che sono adibite a campeggio e ce ne possono essere magari non sono tante ma ci si ma si possono trovare lungo le nostre autostrade è anche evitato lasciare il veicolo in sosta oltre le 24 ore salvo eccezioni dopodiché avviene la rimozione forzata da parte degli organi di polizia ora intanto vi dirò questi divieti anche altri poi andremo nello specifico a vedere determinate sanzioni che possono essere diverse per le varie violazioni e iniziamo con quella che è diciamo la sanzione base ai sensi del 175 cioè per tutte le violazioni varie violazioni tranne per quelle per cui sia una sanzione specifica che vi indicherò dopo si parla di una sanzione amministrativa tra i 42 e i 173 euro che la stessa sanzione diciamo quella tra virgolette di base che c'è nel codice stradale che troviamo dal debito di sosta a tantissime altre e con però qui in questo caso nel 175 la deportazione di due punti l'unica eccezione è che quando si parla di pedoni o animali le loro violazioni hanno una sanzione più bassa che tra i 26 e i 102 euro questa quindi questa quindi è la violazione la sanzione di base che c'è poi c'è delle sanzioni specifiche per determinati comportamenti che andremo a vedere successivamente ad esempio il 175 sanzione in modo più pesante diciamo 10 volte tanto la violazione è legata al carico quindi al carico disordinato o non a tenuta stagna che vi dicevo prima la sanzione e tra i 430 e oltre 1700 euro con la decorazione di 4 punti inoltre l'organo di polizia intimerà al conducente di sistemare il carico se ciò non è possibile e comunque il veicolo riesce piano piano ad uscire senza creare altri disagi verrà scortato altrimenti dovrà comunque sistemare non potrà certo perderlo da da lì fino all'uscita diciamo sul tratto stradale comunque verrà scortato fuori perché ha l'obbligo di abbandonare il tratto autostradale se non può sistemare adeguatamente il carico lo stesso 175 sanziona anche quello che vi dicevo prima dello svolgere attività commerciali non autorizzate nelle pertinenze autostradali per esempio e in questo caso oltre alla sanzione che è la stessa che abbiamo visto prima tra i 430 e 1700 e oltre euro e dato che si sta utilizzando anche un veicolo per essere lì a svolgere quel tipo di attività e sarà disposto anche il fermo amministrativo di 60 giorni per il veicolo utilizzato per la violazione vediamo ora cosa succede se il veicolo è sprovvisto di revisione ed è trovato appunto a circolare su queste strade invece dell'applicazione dell'articolo 80 cui comunque si farà riferimento e vi invito ad andare a vedere quel video perché si seguirà comunque quella procedura verrà sanzionato ai sensi del 176,18 che prevede la sanzione che sostanzialmente è la stessa 173 fino a 694 euro ma a differenza che di ciò che avviene su altre strade sull'autostrada per esempio verrà disposto in cui momento il fermo amministrativo del veicolo mentre solitamente per l'articolo 80 si applica la sospensione della circolazione che non è un fermo qua invece viene disposto il fermo che significa che viene trattenuto il libretto e il veicolo è sottoposto appunto a fermo amministrativo fino a quando fin quando il conducente o proprietario non dimostrerà di aver provveduto alla prenotazione della visita di revisione a quel punto gli sarà ridato il libretto sarà quindi rimosso il fermo però dovrà comunque dato che non è sottoposto la revisione abbandonare il tratto autostradale e proseguire quindi al di fuori di strade extropane principali o autostrade perché appunto come vedevamo prima per il veicolo che aveva dei dispositivi inefficienti come i fari rotti non funzionanti di notte anche in questo caso il veicolo non è considerato idoneo a circolare su strade che costituisce dove può costituire un pericolo anche di un certo rilievo per la circolazione stradale in quanto sappiamo che un veicolo che non ha superato la revisione per i codici della strada è considerato un veicolo che non è sicuro dal punto di vista delle sue caratteristiche potrebbe avere dei difetti, dei problemi che non lo rendano sicuro per la circolazione quindi il veicolo sprovvisto di revisione oltre alla sanzione dove anche se ha prenotato questa visita deve uscire e proseguire sulle strade normali ma c'è una particolarità in più la stessa cosa succede se pensiamo un veicolo che viene fermato in una strada urbana per esempio viene sanzionato da un organo di polizia ai sensi dell'articolo 80 e per tornare a casa dovrebbe fare la strada più breve è imposto di fare la strada più breve per tornare non dico a casa ma comunque al luogo indicato sul verbale se questo conducente invece di proseguire sulle strade esterne e imbocca una ex urbana principale o un'autostrada viene considerato in violazione e gli sarà intimato di uscire quindi per farlo in modo più chiara attenzione a quando andate in vacanza senza revisione perché se doveste essere molto distanti da casa magari ci siete arrivati con ore e ore di autostrada e nel luogo di vacanza venite fermati e sanzionati per l'articolo 80 e non riuscite a fare la revisione prima di tornarvene a casa magari ve ne state già tornando dovrete tornare evitando autostrade e dextrourbane principali perché se le utilizzate potreste essere nuovamente fermati nel tragitto diciamo luogo di vacanza passatemi il termine fino a casa e sarete anche obbligati a quel punto scortati al di fuori del tratto autostradale per proseguire sulle strade extraurbane secondarie, urbane e quant'altro quindi è molto chiara questa cosa il veicolo senza revisione non può circolare su queste strade vediamo ora quelle che sono le norme di comportamento le varie norme del 176 e la più importante o perlomeno quella più pesantemente sanzionata la troviamo proprio come primissima norma al comma 1 lettera A che prescrive l'assoluto divieto su carreggiate, su rampe o su svincoli di compiere queste manovre l'inversione del senso di marcia l'attraversamento dello sparte traffico o la circolazione contromano pensiamo che sia autostrade che extraurbane principali sono strade con carreggiate separate dove i due sensi di marcia sono separati in certi casi possono essere aperti dei varchi magari per ragioni di lavori stradali e dei veicoli potrebbero invertire quindi andare nell'altro senso invece che uscire alla prima uscita e rientrare per procedere nel senso contrario potrebbero attraversare quello sparte traffico ecco ciò è vietatissimo vietatissimo invertire senso di marcia e tanto più circolare contromano nella stessa corsia la sanzione prevista è molto alta tra i 2000 e gli 8000 e oltre euro c'è il fermo amministrativo del veicolo che in caso di reiterazione diventa confisca del veicolo e viene disposta la revoca della patente di guida o di ogni altro titolo di guida sapete che una patente straniera non può essere revocata dallo Stato italiano direttamente ma sarà comunque segnalata come patente e quella persona non potrà più guidare sul territorio italiano la revoca ricordiamoci comporta per due anni l'inibizione a conseguire una nuova patente quindi è una sanzione giustamente abbastanza pesante visto anche l'estrema pericolosità della manovra nel comma 1 troviamo anche ad altre lettere che adesso vediamo altre violazioni all'1b c'è il divieto di compiere la retromarcia pensiamo quando uno magari ha mancato l'uscita si mette in corsia d'emergenza e comincia ad andare contro diciamo non contro mano ma in retromarcia per riprenderla quel comportamento anche chiaramente è vietatissimo è meno sanzionato del contro mano ma comunque prevede una sanzione tra i 430 e i 1731 euro e la decurtazione dei 10 punti dalla patente invece alle altre lettere quindi la lettera C e la lettera D vediamo il divieto di circolare in corsia d'emergenza o circolare su corsia di variazione di velocità pensiamo una corsia di accelerazione la devi percorrere entrando nel tratto stradale se invece io già sono nel tratto stradale e magari mi butto in corsia di accelerazione per magari superare un veicolo quello chiaramente non lo posso fare non lo posso fare e quindi queste sono le corsie di variazione di velocità in questi casi quindi sia circolare in corsia d'emergenza che circolare in corsia di variazione di velocità oltre alla stessa sanzione che abbiamo detto prima quindi 430, 1700 euro e 10 punti comporta anche la sospensione della patente da 2 a 6 mesi quindi quelle persone che vediamo circolare in corsia di emergenza tranne in un caso che vedremo dopo rischiano la sospensione della patente da 2 a 6 mesi ricordiamocelo ma è vietata anche la sosta sulle autostrade o determinati tipi di sosta e vediamo quali ai comma 6 e comma 7 è vietata la sosta di emergenza che superi le 3 ore ovvero sia un veicolo in avaria ha diritto alla sosta di emergenza chiaramente ma deve provvedere quanto prima a chiamare il soccorso stradale per poter essere rimosso non può restare lì a oltranza oltre le 3 ore non può restarci quindi verrà la polizia stradale a far rimuovere in modo forzato il veicolo e anche sanzionandolo con questa sanzione che vediamo tra i 430 e i 1731 euro è vietata anche la sosta e la fermata di notte se non si adottano delle delle precauzioni per esempio le luci di posizione e i dispositivi previsti dall'articolo 153,5 quindi la sosta di notte comunque anche d'emergenza tanto più e perché di questo poi parliamo bisogna adottare delle precauzioni un veicolo messo in corso d'emergenza o in una piazzola diciamo di emergenza di notte deve tenere le luci di posizione accese e i dispositivi le 4 frecce il triangolo la pettolina per le persone fuori dal veicolo tutte queste prescrizioni devono essere seguite quindi ricordiamoci che anche la sosta ha delle prescrizioni specifiche su autostrade ed extraurbane principali vediamo ora altre prescrizioni ve le ho un po' riassunte e vi invito ad andare a leggere dal testo anche per esempio devono essere utilizzate in modo corretto le corsie di accelerazione e decelerazione anche con l'ausilio degli indicatori di accelerazione le frecce in caso di ingorgo stradale quindi di una coda di un ingorgo dove non c'è la corsia d'emergenza magari per motivi di lavori stradali o quant'altro i veicoli di destra devono avvicinarsi alla striscia di sinistra quindi devono cercare di lasciare una sorta di corsia d'emergenza a destra avvicinandosi ai veicoli della corsia di sinistra perché questo può consentire il passaggio di mezzi di soccorso di polizia o altro inoltre in caso di ingorgo ed era questo il caso che vi dicevo prima se l'uscita che dobbiamo imboccare si trova a meno di 500 metri si può utilizzare la corsia d'emergenza per uscire in modo da rendere più scorrevole il traffico e ridurre l'ingorgo naturalmente con le dovute cautele non possiamo circolare a 80 km orari o più in corsia d'emergenza per poter uscire ma procederemo lentamente in corsia d'emergenza e solo per uscire quindi arrivati all'uscita dobbiamo uscire effettivamente e non fare i furbi e rientrare perché a quel punto saremo nella violazione che abbiamo visto prima inoltre è fatto di vieto di sosta assoluto quindi con rimozione chiaramente su tutte le carreggiade le rampe e gli svincoli quindi la sosta è consentita soltanto in corsia d'emergenza nelle piazzole nelle aree di sosta nei limiti che abbiamo visto prima un'ulteriore prescrizione è fatta per quei veicoli che sono a trasporto merci sopra le 5 tonnellate non ho scritto latti di tonnellata o quei veicoli oltre i 7 metri nel caso si trovino su quelle strade autostrade o estomane principali che hanno tre o più corsie questi veicoli possono circolare solo nelle prime due quindi le due corsie a destra useranno la prima in caso vogliono sorpassare un altro magari un altro autocarro possono usare la seconda ma non potranno utilizzare la terza corsia o la quarta o in Italia non penso che ce ne siano cinque ma si può prevedere questo comunque possono utilizzare solo le prime due corsie a destra le sanzioni per tutte queste varie violazioni che abbiamo detto ai sensi del 176 ad eccezione di quelle del comma 1 per esempio che abbiamo visto più specifiche ci sono sanzioni tra gli 87 e i 344 euro con la decurtazione di due punti quindi tenete presente questi importi per le varie violazioni che abbiamo visto ad esempio facciamo facciamo un esempio l'utilizzo individuo di sosta su carreggiate rampe o svincoli per fare un esempio vediamo anche un'altra violazione l'ultima che vediamo legata sempre all'articolo 176 ed è il cercare di eludere il pagamento del pedaggio autostradale quindi se una persona non si ferma alle stazioni magari appunto perché la sbarra è aperta riesce a uscire o magari compie una manovra anche pericolosa per la circolazione stradale in certi casi che gli permette di eludere il pagamento salvo che il fatto non costituisca più grave reato attenzione è prevista appunto questa solita sanzione tra 430 e 1731 euro euro oltre all'obbligo di pagare il tratto appunto che si è percorso e con questo abbiamo finito e vi invito a seguire il canale mettere mi piace attivare la campanella per appunto non perdere i prossimi video che cercherò di fare quanto prima quindi buon proseguimento con i prossimi articoli del codice stradale